cari amici cari amiche eccoci qui finalmente risponderò ad alcune delle vostre domande che voi gentilmente avete messo nell'apposito gruppo per le domande audio audio è inutile che mi scrivete lì anzi problema è che purtroppo qualcuno mi scrive lì e che è successo io ho dovuto trasformare come stiamo trasmettendo gli audio e se trasmettiamo gli audio ho dovuto trasformare queste scritte in audio quindi adesso sentirete delle letture automatiche che cioè io le letture automatiche non mi piacciono perché a me piace sentire la persona che parla perché due motivi innanzitutto quando la persona parla trasmette molte cose non solo le sue parole trasmette anche i sentimenti trasmette varie cose e invece la lettura automatica e fredda e poi perché io voglio che si sappia che a fare queste domande sono le persone che a dire queste cose sono persone vere non so io che me scrivo da solo è entrato due motivi abbastanza importanti quindi anzi a proposito io per riuscire a trasformare in audio le domande scritte ci ho piegato un sacco del tempo insomma soprattutto sto sveglio praticamente dalle tre fino alle quattro per fare questa transizione che non mi ricordavo manco come si faceva allora mi sono dovuto ricordare eccetera eccetera quindi farmi la cortesia e fatemi queste domande audio ma che ve costa ma che ve costa per non perdere due minuti mi fate perdere un'ora a me favore ok allora sentiamo buongiorno maurizio mi chiamo ivan sto seguendo i tuoi video da circa un mese su youtube in particolar modo quelli sul corso alieni e li trovo davvero interessanti premetto che tramite il caso amicizial mi sono avvicinato particolarmente all'argomento e adesso lo coltivo su più fronti anche da un punto di vista spirituale in casa amicizia ne ho parlato magari se ti capita vedi il video che ho fatto potrebbe essere interessante mi piace anche il tuo approccio alla materia che coinvolge la sfera logica sulla base delle conoscenze che credo tu abbia attinto nel tuo percorso di studi sull'argomento è un lungo percorso molto serio giorno e notte ho studiato giorno e notte quindi insomma anche in considerazione a tutto lo sforzo dello studio che ho fatto meriterebbe che ciò che ho studiato venisse esaminato con una certa attenzione ok non lo dico per te per carità lo dico perché ultimamente purtroppo ho visto che alcune persone non hanno avuto molto rispetto per il mio lavoro e per la mia divulgazione assolutamente gratuita per amore all'umanità che sto facendo quindi purtroppo a differenza degli altri vedo che tu hai spirito di iniziativa volto a risolvere su più fronti sia da un punto di vista religioso che economico la nostra condizione di schiavitù aliena l'italian coin è una di queste che se dovesse veramente prendere piede potrebbe rappresentare una svolta come posso ottenere questa valuta? come posso ottenere questa valuta? allora guarda siete in due anni me l'avete chiesta in due in due te e un altro ragazzo allora questo ritmo in quant'anni? me lo chiederete in quattro ma capirai? ma pensa te cioè ma che volevo fare? ma che? cioè io l'iniziativa come giustamente ha detto ce l'ho ma se il popolo italiano non ce l'ha st'iniziativa tu gli puoi fare pure le cose più belle del mondo ma che ce posso fare? non dipende da me comunque lasciate stare l'italian coin perché già se è bello che capito che non gliene può fregare di meno a nessuno quindi peccato che ci ho lavorato un sacco di tempo e ci ho buttato un sacco di soldi per fare l'italian coin comunque pazienza io le cose ve le ho date ve le ho date e poi se non sapete che faccio non è certo colpa mia l'applicazione devo scaricare per poter scambiare questo denaro ascia verde buongiorno Maurizio avrei un quesito al quale forse hai già risposto ma per il momento non sono ancora riuscito a trovare il video dove parli di questo probabilmente perché non ho ancora terminato l'ascolto della tua immane produzione di video il tuo canale youtube ha quasi 800 video perché questo universo è alla fine del suo tempo se si tratta solo di un universo virtuale creato da noi surga è perché l'universo virtuale per esistere ha bisogno di una base materiale non esiste niente di virtuale se non c'è una base materiale e questo universo materiale sta andando in evanescenza perché per le leggi della fisica quando l'universo ha finito il suo moto ha finito la sua energia svanisce nel nulla semplicemente per questo è un destino inevitabile dell'universo quando l'universo esaurisce la sua energia cosa che può essere definita come la raggiunzione del livello massimo dell'entropia ma lasciate stare queste cose perché la gente parla dell'entropia dice certe cose fate finta che è una batteria che ha finito l'energia ok? ovvero perché creare un universo finito se è possibile virtualmente parlando dare vita a qualsiasi cosa? no, non è che non è che uno crea un universo finito che poi qui si tratta di una successione di universi di universi materiali di universi fisici di universi concreti capito? te faccio un esempio così giusto spicciolo allora perché esiste il sogno di qualcuno no? l'universo diciamo facciamo finta che quel sogno sia virtuale ok? perché esista un sogno di qualcuno c'è deve essere qualcuno che sta a dormire qualcuno di carne e osso qualcuno di ciccia perché se no quel sogno lì non esisterà mai capito? se non c'è un corpo fisico uno che ha un corpo fisico che sta sognando il sogno non c'è non so se mi spiego se uno esiste fisicamente e si mette a dormire e sogna il suo sogno esiste ma se non c'è nessuno di ciccia di carne e ossa che sta lì a dormire e sogna il sogno non esiste capito? quindi quando si crea un universo virtuale si si crea un universo virtuale perché c'è un universo fisico dove c'è qualcuno che sogna cioè non è che uno crea da nulla una cosa virtuale c'è deve essere una base fisica materiale capito? poi magari se vuoi ne parliamo meglio però essenzialmente è questo quale evento apocalittico dovrebbe decretare la fine di un universo intero? la fine dell'energia è la fine dell'energia finisce energia in un universo quando finisce l'energia sparisce nel nulla? sparisce nel nulla basta che tu guardi la legge di forma di vita stiamo parlando dell'universo materiale perché si è e se non esiste nessuna forma di vita nell'universo materiale non esiste nessun sogno nessuna vita virtuale ok? stinto il bioverso il bioverso si è stinto perché come tutti gli universi materiali finita l'energia sparisce hai detto in uno dei tuoi video che è stato creato più di un universo nel passato perché questa pratica continua ancora? perché 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 è il ciclo cosmico capito? capito? è come se fosse un respiro dell'universo come se fosse un battito del cuore dell'universo no? pum pum in ogni pulsazione si svolge tutta l'esistenza di un universo e non c'è come fermare queste pulsazioni e non c'è come cambiare la durata di queste pulsazioni ok? comunque sono miliardi e miliardi di anni se noi surga abbiamo già fatto l'esperienza in passati universi e quindi abbiamo già capito cosa significa soffrire nella vita biologica perché continuare questi cicli? perché i cicli sono i cicli cosmici ma siamo di coccio come si dice dalle mie parti sono pugliese no non è che non è di coccio si tu dici ma abbiamo già capito eh lo so però a ogni fin universo bisogna ricordare e quando i surga quando questi esseri meravigliosi divini ricordano ricordano molto seriamente non è come quando ricordiamo noi capito? cioè loro ricordano proprio a vive a colori si vivono proprio tutta l'esperienza faccio un esempio allora dice tu c'hai sede no? ti ricordi l'ultima volta che ho aperto il frigorifero e sei andato a bere l'acqua te la ricordi? eh se tu fossi perfetto il tuo ricordo sarebbe talmente perfetto che rivedresti tutto il percorso alla perfezione e apriresti il frigorifero sentiresti la maniglia del frigorifero prenderesti l'acqua e sentiresti il freddo dell'acqua che hai preso e sentiresti il gusto dell'acqua che scende ma proprio al vivo e a colori questo è un ricordo pieno la pienezza del ricordo del surga perfetta se c'è da ricordare com'è stata l'esistenza in un bioverso ricordarlo anche se poi si concedono delle piccole variazioni perché non è la fotocopia sempre uguale del primo universo si fanno questa esperienza qui in quel contesto e la loro esperienza è piena di ricordi perfettissimi capito tale e quali come la realtà che viviamo cioè non è un ricordo nebuloso è un ricordo vivido al mille per cento proprio è una cosa incredibilmente perfetta grazie in anticipo se riuscirai trovare il tempo per le risposte il tempo trovo ce ne avrei pure di più se me le fate in audio se domande perso un'ora in un'ora avrei fatto un altro video comunque questa è una persona molto carina molto educata si sente da come ha scritto si vede da come ha scritto quindi la ringrazio molto veramente molto 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 educata a differenza di certe persone molto arroganti e spocchiose che fanno finta di venire a dialogare e poi invece vogliono imporre le loro credenze vabbè andiamo avanti sono Maria Antonietta ecco questa invece è una signora che pure lei mi ha fatto la parte scritta non mi fate queste cose scritte ma non me le fate e che ci va a fare audio eh è fatto pure il gruppo apposta ok quindi tu stai facendo un commento di una risposta che hai già avuto giusto praticamente è una continuazione Putin sono due marionette nelle mani degli Elohim aspetta che li faccio sentire sto pezzetto che se no magari in diretta in sintesi Trump e Putin sono due marionette nelle mani degli Elohim sì io l'ho detto anche l'altra volta gli Elohim trattano il nostro mondo come se fosse una scacchiera e muoveno tutti i pezzi loro sono loro che muoveno tutti i pezzi tutti danno alle persone l'idea che le cose non vadano bene perché ci sono degli scontri un gruppo che si scontra con l'altro un paese con l'altro ancora con l'altro c'è un interesse economico ci fanno credere che è per questo che le cose non vanno bene non è per questo sono molto orchestrate orchestratissime da sopra e questi giocano sulla stessa scacchiera con tutti i pezzi della scacchiera gli fanno fare quello che gli pare ai pezzi della scacchiera e noi stiamo lì dicendo quando si risolverà il problema con la Russia ah mannaggia quando si risolverà il problema con l'America ah mannaggia quando si risolverà con l'Eguagia ma quando si risolverà ma si risolve il problema e se ne crea un altro ma non siete d'accordo non ci avete fatto caso che è una successione un sosseguirsi di problemi ma fateci caso fate menti locale ricordatevi ricordate questa sequenza di cose che sono successe che sembra sempre che se potrebbe risolvere poi non si risolve niente ma non vi rendete conto capito è in questo contesto che questi dittatori qui ci dominano e fanno con noi quello che ci pare capito poi magari se volete approfondisco perché lo fanno che cosa ottengono tutto quello ok però io sto rispondendo a una domanda mi sembra di aver risposto in modo neurale sono a suoi fatti nel voler portare a termine ciò che si sono prefissati non è soltanto un discorso neurale intendiamoci non è soltanto un discorso neurale quando tu hai creato un certo tipo di posizione non c'è bisogno neanche che interferisci a livello neurale già l'ha creata la posizione è stata creata questa posizione tra Nato e Russia è stata creata cioè non è che devi fare qualche cosa ormai è definita sono cose proprio naturali spontanee poi se ci fosse necessità di un altro riducco io danno un altro riducco quelli in lassù ma qui tutto va avanti in automatico capito gruppi che si scontrano eccetera eccetera è così che va è così che funziona difficile da credersi visto che Biden vuole portarci verso il transumanesimo mentre Trump parla di liberare l'umanità dallo schiavismo ma certo ma questo lo fanno perché devono confondere l'idea della gente tu devi arrivare in un punto che non sai più chi sta da quale parte che non si riesce più a coprire niente capito uno dice una cosa non le dice un'altra ma come quelli sono tutti e due americani però dicono cose diverse capito ma di che bisogna capire che è tutta una cosa molto orchestrata io ho fatto pure altri esempi spiegando la lotta libera messicana per dirne una capito vabbè lasciamo perdere ma se fanno entrambi parte dello stesso gioco siamo sfacciati uno fa finta di liberarci ma nello stesso tempo vengono usati per farci fare la guerra tra noi no sì certo non solo vengono usati per farci fare la guerra tra noi ma vengono usati per farti vedere che le cose non vanno bene perché ci sono opinioni divergenti tratti loro stessi capito anche gli schieramenti loro ricostruiscono in modo che gli schieramenti stessi per quanto siano schieramenti sono estremamente confusi capito dice ma come quelli sono i cani dovrebbero averci uno schieramento omogeneo contro in confronto di tutto il resto no pure tra di loro hanno visione quello fa una cosa quello fa un'altra è fatta apposta è un caos totale è così che regnano capito? che ci governano questi di sopra l'altro spinge per legalizzare lo sfruttamento e l'ideologia transgender io ho piena fiducia in lei e nelle sue grandi doti come scienziato ma sono un tantino scossa perché rilevo che questo nuovo ordine mondiale allora ci sarà ma non è che ci sarà già c'è non è che arriverà già c'è l'ordine mondiale già esiste da migliaia e migliaia di anni ed è questo e non cambierà mai almeno che noi ci svegliamo e capiamo chi è chi ci sta sopra e come si sconfigge chi ci sta sopra io vi ho detto sia chi ci sta sopra sia come si sconfigge anzi per favore sotto il video mettetelo scritto almeno capisco che i video che faccio servono a qualche cosa mi dite per favore chi è che ci sta sopra chi è che che domina tutto qua e come si fa sconfiggere questi mo scrivete almeno così mi fate contento riesco a capire che i video che faccio non è che non servano a niente ok si continuerà a seminare vittime per decimarsi ma da boh ma vi siete scordati il passato informatemi un pochettino come è nato il passato se potrà spendere qualche parola a riguardo gliene sarei grata tendenzialmente sono una persona ma a questo punto non le nascondo che mi sento un tantino spaventata la tribula non avrà fine grazie e no la tribolazione non avrà mai fine perché se voi uno spegnete interruttore generale è una vita che vi sta a dire che bisogna chiudere l'interruttore generale negando il consenso a questi che che si sono presi il consenso con l'inganno capito ma io devi negare e noi siamo festi perché non glielo negamo capito ho detto pure come hanno fatto averci il consenso tramite le religioni ho detto tutto ho creato la religione per uscire dalle religioni così gli elevate il consenso ho creato la moneta la moneta italiana non ve ne può fregare di meno ho creato la religione sono andato a vedere dentro ho fatto un gruppo che c'è scritto per favore tutti quelli che hanno aderito alla religione potete entrare lì dentro io ho visto che neanche quelli che hanno il diplomino a casa sono entrati in quel gruppo io vi ho detto per semplificare c'è la vita questa cosa devi fare i diplomi mandare i diplomi fai i diplomi il diploma ve lo fate ve lo tenete da casa se volete ci fate pure un bel quadretto e l'appiccicate lì così nessuno c'è il dubbio che voi avete aderito alla religione che vi fa uscire da tutte le religioni ecco è una religione strategica perché in realtà quello che insegno io è la spiritualità però come qui si tratta di una strategia di religioni con la quale loro ci hanno fregato a noi allora io ho fatto una religione con la quale noi fregamo a loro scusa eh è logico entrate ve lo metto pure sotto in descrizione tutti quelli che hanno aderito alla mia religione anche nel passato che dicono vabbè mi ho aderito c'è il diploma sì vabbè ho aderito c'è il diploma ma voi entra per favore nel gruppo telegram che io ho fatto così perlomeno ci siete tutti lì dentro capito con i vostri pseudonimi con i vostri nomi come vi pare perché io ho detto per semplificarsi un po' le cose e per poter dire un no al consenso che stiamo dando anche senza sapere a questi qua entrate nella religione entrate dentro il gruppo perché c'è un gruppo che dice ti vuoi informare sulla religione entri qui stai facendo parte della religione e allora già sei parte di questa religione entri in quell'altro se te stai informando no stai cercando di capire un'altra storia ma è un gruppo fatto apposta per chi già è parte di questa religione inoltre non c'è bisogno neanche di strappare il diploma nel momento che tu esci dal gruppo non sei più parte di questa religione capito può semplificare dal massimo entri sei parte esci non sei più parte entri fai parte esci non sei più parte ma se parla del gruppo telegram che sarebbe in pratica il nostro tempio è andata al tempio non è che se fai una faricata fai clic e fatela sta cosa per favore che vi costa poi se lo strappate a casa il diploma potenete lo strappate mettete l'attaccato è una cosa libera una cosa libera per uscire potete fare in tanti modi potete pure strappare il diploma ma la cosa migliore è entrare lì dentro e poi cancellasse capito se vuoi uscire cioè è talmente automatico entri e esci quando ti pare chiaramente quando esci devi sapere che ritorni esattamente a far parte alla stessa identica regione di prima qualcuno ha detto no vabbè ma che non frequento la chiesa ho capito che non frequenti la chiesa però è come se tu da piccola sei della Lazio oppure sei della Roma se tu non cambi squadra sarai sempre della Lazio sarai sempre contato come della Lazio capito o della Roma cioè per usci devi cambiare squadra quindi entri nella mia e esci ok semplicissimo poi si dice ah no ma quello di Maurizio è uno schifo schifo perché è uno schifo non lo so ma mettiamo che qualcuno dice no ma è uno schifo io esco allora tu esci fai clic e esci se c'è un diploma può pure strappare un diploma ma pure se non lo strappi una volta che tu esci da lì capito il punto per capire chi fa parte non fa parte della religione adesso è una cosa tecnologica capito ci dobbiamo adeguare loro ci hanno dato la tecnologia per avere il silenzio assenso noi possiamo dimostrare il nostro dissenso dal dato il libero arbitrio ma non lo facciamo allora invece con questo gruppo lo facciamo lo facciamo a grande famolo e dai vi metto il link qui sotto voglio dire che fate per favore insomma io cerco di fare tutto adesso sono le 4 20 di notte sto a farvi per voi uno sforzetto insomma famolo tutti va bene penso che ci interessa a tutti poter vivere recentemente e non sotto sta dittatura aliena voi che dire ok andiamo avanti buongiorno Maurizio ti volevo fare una domanda di fisica ti volevo chiedere che cos'è che determina la massa di una particella subatomica e quindi di un atomo e perché l'elettrone non ha massa ovviamente intendo non i concetti generali quelli che si studiano a scuola ma questi concetti spiegati con la tua teoria dello spazio vedete quanto è più bello e senti una voce vera una voce umana che poi ha le sue diciamo caratteristiche di espressività anche nel tono della voce io ringrazio molto per questa domanda e posso dire che è a causa della vischiosità dello spazio lo spazio ha una certa vischiosità ci sono delle particelle che sono maggiormente influenzate da questa vischiosità e altre invece sono molto meno influenzate da questa vischiosità il fotone per esempio è quella meno influenzata di tutte infatti riesce a raggiungere la maggior velocità possibile dell'universo attraverso lo spazio più velocemente di tutti perché non è come si dice influenzato da questa vischiosità ok salve Maurizio ti seguo da tempo e vado subito al succo e il fatto di identificare esseri umani alieni come esseri viventi fisici e non come energie io questo lo noto sempre lo chiedo a chi appunto lavora con te fa ricerca diciamo questa identificazione non ha neanche una identificazione neanche leggendo le varie bibbie nel corano e altri testi sacri cioè il fatto che noi siamo fisicamente no noi tocchiamo la materia siamo fisici porta a un dubbio il fatto che invece non sia tutto vibrazionale quindi io stesso potrei benissimo incominciare a dire che facendo le mie ricerche essendo io musicista e compositore potrei dire che esistono delle entità non fisiche create da vibrazione che possono essere chiamati alieni dico per me ci sono tanti bug tanti buchi da riempire è noto e quando parli tu con tutto il rispetto è come se tu avessi delle certezze io stesso che ti ripeto faccio musica che studio sento che la musica riesce a collegarci con il divino e la cerniera tra il materiale e il sacro non ho tutte queste certezze ma suppongo sarebbe bene forse o spiegarlo bene cioè quali sono le prove per cui tu intendi cioè la famosa guerra tra le due fazioni per me c'è un errore di fondo perché per esempio se noi vedessimo una luce mi cicciofono se noi vedessimo una luce potremmo benissimo identificarla come energia e quindi alieni grazie questa è una domanda bellissima scusate mezzo è acceso il morire qui mi stavo a bronzare questa è una bella domanda io per risponderla come si deve la riporto un attimino indietro così cercherò di risponderla pezzo pezzo d'accordo vediamo un attimo solo devo ritrovare dove comincio ma neanche un attimo sempre si 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 studia una scuola ma questi concetti spiegati con la tua teoria dello spazio ok salve Maurizio ti seguo da tempo e vado subito al succo è il fatto di identificare esseri umani alieni come esseri viventi fisici e non come energie io questo lo noto sempre cioè noto sempre e lo chiedo a chi appunto lavora con te fa ricerca diciamo questa identificazione non ha neanche una identificazione neanche leggendo le varie bibbie nel corano nei altri testi sacri cioè allora io come insegno il superismo io ovviamente ho dei punti di partenza che sono molto semplici i testi antichi sia quelli sacri sia quelli non sacri non è che sono molto credibili attenzione sia quelli poi il testo viene considerato sacro quando fa comodo a qualcuno quando non viene quando fa comodo a nessuno nessuno lo considera sacro cioè proprio non viene buon fregante meno tu prendi un cinese gli fai vedere una bibbia gli fai vedere un corano ma che è questa roba ma proprio non viene buon fregante meno proprio non esiste per lui quindi questo discorso del testo sacro è quando uno prende un testo antico e gli vuole attribuire un discorso di come posso dire un discorso spirituale che poi magari non c'è perché per esempio la bibbia il famoso vecchio testamento non c'è niente ad esagro quelli praticamente uno che si chiama Yahweh che voleva conquistare vari territori così come ha fatto che ti posso dire Attila oppure Gengis Khan oppure Alessandro Magno no? ecco allora la differenza tra Alessandro Magno e Yahweh che Alessandro Magno ha conquistato da una quantità di terre pazzesche ma anche Gengis Khan ha conquistato ha conquistato proprio niente ancora deve conquistare però quelli lo chiamavano Dio perché era il loro alieno favorito capito dice sarà Dio questo campadanto e sti cavoli certo che campadanto pure io camperei tanto se ci avessi i nanorobot alieni e pure tu camperesti tanto se ci avessi i nanorobot alieni che vuol dire allora nei testi sacri ci sono scritte esattamente le cose che gli alieni volevano che ci fossero scritte e ci sono scritte tante cose che non hanno un senso per esempio ci sono scritte delle cose che riguardano ma questo in tutte le culture del mondo che riguardano cose che ti fanno immaginare una realtà magica una realtà del divino una realtà dove le cose si fanno a colpi di magia colpi di bacchette magiche di riti di cose strane di cose completamente non concrete allora la spiritualità no il discorso dello spirito nasce un po' questo l'ho accennato anche in un altro video dove dicevo che la spiritualità nasce quando a un certo momento alcuni parenti vi parlo di preistoria alcuni parenti morivano e uno si sognava il parente allora diceva annaggia cosa che mi sono sognato che ne so mi madre mi sono sognato mi padre mi fratello che ne so gente morta mi sono sognato e ci ha parlato ci ha parlato e mi ha detto così 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 questo discorso della spiritualità nasce perché tu te lo ritrovi nel sogno e dici allora è vivo è vivo poi anche nella speranza che c'è una vita dopo la morte anche quando tu non hai più un corpo fisico ecco lì diciamo vedi se mi appare in sogno è perché c'è stato magari quando muoio pure io posso apparire in sogno a qualcuno perché noi viviamo in un mondo diciamo ideale spirituale che non ha bisogno di corpi fisici nasce un po' da lì sta storia e il discorso delle vibrazioni e della musica e io lo so io pure sono bucisista a me piace tanto la musica il discorso però che tutta energia che tutte vibrazioni non è proprio così te lo fanno pensare perché vogliono che tu ci abbia le idee confuse capito? che tu ci abbia le idee confuse così come potenti fa comodo che la gente pensa pensi che puoi essere felici pure senza soldi che la gente può essere felice pure senza soldi e tu prova essere felice senza soldi e te li trovi subito a abitare sotto un ponte al freddo al gelo sotto la pioggia se te fanno abitare sotto il ponte che poi arriva pure il poliziotto che te caggia via tu prova a essere felice e cioè ti raccontano delle fesserie che servono a farti rinunciare a certe cose a farti rinunciare per esempio alla concretezza delle cose tu rinunci alle cose concrete quindi ti insegnano che sì quando muori se sei bravo sei buono vai in paradiso di qua di là di su di giù e se sei cattivo non obbedisci alla chiesa voglio l'inferno perché te lo ti dano fa quello che gli amano a loro lo fanno su delle cose che non hanno un senso non hanno un senso concreto ok e ti faccio un esempio allora tu prendi un bicchiere tu prendi un bicchiere e cominci a riempirlo d'acqua facciamo finta che il bicchiere sia un corpo di un essere umano no un corpo di un essere umano con la sua esperienza di vita comincia a imparare le cose avere dei ricordi a conoscere eccetera eccetera e quindi questo bicchiere si tiempie sempre più di quest'acqua chiamiamola acqua giusto per dar un esempio in realtà qui si tratta dello spirito ossia di tutto ciò che costituisce la nostra identità i nostri pensieri i nostri ricordi ciò che abbiamo imparato ciò che abbiamo capito tutto quanto quello che insomma costituisce anche le nostre aspirazioni i nostri desideri tutto poi lo spirito allora facciamo finta che il corpo è il bicchiere e allora pian piano si riempie di questo spirito che noi per dar un esempio io parlo del bicchiere e dell'acqua perché se no non si capisce allora tu cominci a riempirlo d'acqua riempie d'acqua riempie d'acqua riempie d'acqua a un certo momento il bicchiere ha un problema fisico e more come more casca il bicchiere crack mille pezzi dove va a finire l'acqua si perde si disperde nel nulla capito si disperde nel nulla svanisci nel nulla è come è come un pendrive pieno di informazioni ovviamente sono dei campi magnetici memorizzati questo è un altro esempio per spiegare un pochettino il discorso tu distruggi il pendrive hai distrutto tutti i campi magnetici che costituiscono tra virgolette lo spirito del pendrive così come l'acqua nel bicchiere così come le informazioni dentro il pendrive ok lo spirito dentro l'essere umano io ho spiegato che cos'è lo spirito e che cos'è l'anima l'anima è molto legata al concetto di animale ossia quello che è animato dentro c'è lo spirito quando la persona muore lo spirito svanisce e la persona non si muove più ok la parte animata che è l'anima il corpo il corpo in realtà è l'anima capito loro hanno confuso l'idea hanno detto no perché è l'anima di qua fesserie l'anima è il corpo è il corpo però loro volevano che tu diventassi distaccato dal corpo sì ma che ce ne frega del corpo tanto l'importante è l'anima la vita eterna no 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 il corpo è importante perché quando non c'è più il corpo la persona muore e io ho spiegato se non fosse per gli antichissimi che salvano il nostro spirito quando moriamo il nostro spirito svanisce nel nulla non c'è più come in un pendrive distrutto il pendrive tutte le informazioni dentro sono sparite capito una volta rotto il bicchiere l'acqua non ci sta più a meno che tu prendi quando se sta rompere il bicchiere che se sta per rompere il bicchiere tu prendi e travasi l'acqua in un altro bicchiere allora non l'hai perso ma c'è deve essere un contenitore di quest'acqua c'è deve essere un altro pendrive che pia le informazioni ci deve essere un altro corpo ovvero un'altra anima che raccoglie lo spirito lo spiritello che vaga da solo so fesseria non esiste e lì è tutta la è tutta il discorso del soprannaturale il portagast il fantasminico ma te che ma non esiste sta roba gli alieni cercano di farci credere a ste fesserie ma da no che cercano di farci credere a ste fesserie per confondere le idee per farci perdere l'orientamento ma in realtà noi abbiamo una vita anche dopo questa perché gli antichissimi registrano ma non come potrebbe fare uno scienziato terrestre che ti prende gli ultimi dati che c'era a testa te li copia ti mette lì magari in attesa che tu abbia un altro corpo no no questo qui è roba alla frankenstein io parlo degli antichissimi che registrano attimo per attimo con esattezza assoluta ogni cosa che stai vivendo e hanno registrato tutto da quando sei nato tutta la vita tutta la vita e hanno sempre trasmesso questi dati trasmesso durante tutta la vita anche nel momento fino al momento della tua morte e quindi dall'inpo ti danno una continuità di esistenza capito non esistono spiritelli ti danno un altro corpo dove vivere capito ma grazie agli antichissimi perché se antichissimi non facessero queste e questi antichissimi sono più di 9 miliardi di anni che girano per tutto l'universo cercando di fare il save alle forme di vita pure a noi lo fanno lo fanno pure agli altri extraterrestri per carità ma lo fanno pure a noi perché hanno capito il senso dell'esistenza e non vogliono che noi abbiamo la fregatura che dopo sta vita uno muore e ce la vendiamo in sacoccia cioè che noi che abbiamo contribuito tanto anche inconsapevolmente all'evoluzione della vita perché pure se non hanno fatto niente però dopo magari i figli i nipoti fanno qualche cosa insomma si porta avanti il discorso dell'evoluzione a un certo momento abbiamo un premio abbiamo sofferto tantissimo abbiamo avuto una speranza addirittura un'intuizione della vita eterna del paradiso del premio e poi questo premio non c'è perché morimo nessuno ci fa il save capito? non esiste niente senza un corpo prima c'è il corpo e poi lo spirito infatti ho spiegato come si forma l'esistenza gli ho spiegato che Dio è l'universo che nasce è il Big Bang lì già c'è Dio il fede di Dio è il Big Bang all'inizio è tutta energia ma non è un'energia cosciente è un'energia e basta poi diventa cosciente nel momento che si organizza nelle prime forme di vita che prendono consapevolezza che cominciano a sentire l'ambiente magari hanno pure fame freddo interagiscono eccetera eccetera l'evoluzione della vita sempre più cosciente sempre più cosciente poi si va avanti si raggiunge una forma di evoluzione molto più elevata e grado grado gradualmente si va avanti si va avanti si va avanti fino a raggiungere la fioritura massima della vita nell'universo che in realtà è la fioritura massima di Dio perché l'universo e Dio sono la stessa cosa ma Dio ha un corpo materiale per questo a un certo momento quando finisce l'energia muore tutto pure Dio muore cioè quando un universo fallisce la creazione dell'altro universo il trasferimento di tutti i surga che compongono Dio nell'altro universo chiaramente muorono tutti muorono i surga muore Dio muore tutto muore tutto per questo è importante avere una consapevolezza perché poi nel momento che tu diventi surga e dopo la morte uno continua a imparare perché in realtà non c'è una morte c'è un proseguimento che ti danno gli antichissimi e io purtroppo se ne hai studiato questa cosa ma che vedevo fare riassunti in 30 secondi è così è così caro amico è così nel senso che non ti sto dicendo di credermi ma che me ne frega a me se mi credi o no io non voglio che mi credi anzi se mi credi mi fa pure mi dà fastidio se tu mi credi io invece mi piacerebbe molto che tu e tutti quanti fai dei vostri pensieri dei vostri ragionamenti a riguardo di queste cose ok continuiamo a sentire la domanda il fatto che noi siamo fisicamente no? noi tocchiamo la materia siamo fisici porta a un dubbio il fatto che invece non sia tutto vibrazionale quindi io stesso potrei tu sono fisista pure io sono fisista a me piace tanto la musica la musica e vibrazione vabbè ma che tutto è vibrazionale ma che vuol dire scusa eh la vibrazione per se stessa non basta innanzitutto poi la vibrazione nasce di microvortici che vibrano ok però io ti dovrei spiegare tutta la fisica la vibrazione in se stesso non è niente ci vuole prima un corpo che vibra perché se non c'è il corpo non vibra niente capito? non puoi far vibrare un qualcosa che non c'è io per questo dico che il superismo è una scuola e se ti manca un gradino non si capisce non si capisce è benissimo incominciare a dire che facendo le mie ricerche essendo io musicista e compositore potrei dire che esistono delle entità non fisiche create da vibrazione che possono essere chiamati alieni no assolutamente no 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 non ci siamo non ci siamo no vabbè però io rispetto la tua opinione per carità comunque io suggerisco una bella riflessione sulle cose che dico io le dico apposta in modo che le persone riflettano io non voglio essere creduto perché secondo me se qualcuno mi crede è un'offesa nel senso che tu non è che me devi credere ma che me credi devi riflettere sulle cose che io dico e devi riflettere sulle cose che dicono tutti poi guardi quella che c'ha più logica e scegli tu insomma ok dico per me ci sono tanti bug tanti buchi da riempire è noto e quando parli tu con tutto il rispetto è come se tu avessi delle certezze non è che c'è delle certezze io ho fatto una sequenza di studio talmente logica talmente concreta talmente coi piedi sulla terra e comunque talmente completa che io ho capito che le cose sono così adesso non è che tu ce ne devi credere io ho capito questo magari se riesci a fare lo stesso percorso di studio potresti arrivare anche tu alle stesse conclusioni però certo lo studio va fatto lo stesso che ti ripeto faccio musica che studio sento che la musica riesce a collegarci con il divino no ma infatti tu me lo stai dicendo in un modo molto carino molto rispettoso che la musica ci collega al divino è ovvio perché la musica ci trasmette dei sentimenti delle emozioni ma figurati però per avere sentimenti e emozioni se non c'è un corpo se non c'è un corpo non senti niente la cerniera tra il materiale e il sacro non ho tutte queste certezze ma le certezze non ce l'ha nessuno però ti puoi mettere a valutare ciò che ha più logica ciò che ha più senso e e vedere quello che non c'è meno senso cioè l'evoluzione è fatta così io durante la mia vita ho cambiato varie idee nel senso che se uno si accorge che quell'altra idea è migliore di quella io cambio 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 e in realtà la grande capacità evolutiva è questa sostituire le idee sbagliate con quelle buone con quelle migliori con quelle che hanno più logica che hanno più fondamento quelle che sono più razionali quelle che sono più concrete perché a noi ci stanno a fregare che ci hanno rincoglionito le cose che non so concrete per niente suppongo sarebbe bene forse o spiegarlo bene cioè quali sono le prove e ti ho spiegato abbastanza bene però se hai altre domande io ti ho spiegato ancora meglio per cui tu intendi cioè questa è la famosa guerra tra le due fazioni allora la guerra tra le due fazioni è una storia che io ho spiegato del sistema solare ma questo non incide mica sul discorso che io sto spiegando in relazione a che cos'è il corpo l'anima e lo spirito questo non c'entra niente con le due fazioni che hanno fatto la guerra facciamo finta che facciamo finta io poi invece ho capito che è così c'è stata proprio la guerra da questi sovvenuti qui ho fatto tutta una ricostruzione storica però facciamo finta che che non ci siano i marziani che non ci siano i nordici facciamo finta che invece siano venuti i pleiadiani e che cambia il discorso del 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 corpo e dello spirito rimane sempre lo stesso quello che ho fatto capito su questo non ci piove cioè è molto più concreto questo che dire la storia del sistema solare è stata così perché quello che ti sto dicendo è talmente concreto che se tu ci rifletti se chiunque ci riflette capisce benissimo che se non c'è il corpo non c'è lo spirito infatti ha gente che c'è un problema fisico che perde il corpo e muore e dove va sto spirito nessuna parte capito per me c'è un errore di fondo perché per esempio se noi vedessimo una luce mi cicciofrono se noi vedessimo una luce potremmo benissimo identificarla come energia e quindi alieni ma che ti devo dire possono per assurdo potrebbero anche non esistere gli alieni ma quello che ti ho detto io continua ad essere molto concreto c'è un Big Bang c'è l'evoluzione dell'universo che è materiale fatto di energia per carità ma poi diventa materiale nel momento che questa energia si va a costituire in particelle subatomiche che poi si aggregano in atomi in molecole che poi sviluppano delle capacità anche sensoriali e è lì che comincia a esistere lo spirito nel momento che tutto questo che è sensoriale comincia ad essere sentito e memorizzato lo spirito nasce in una successione di eventi e lo spirito muore quando muore il corpo disintegri un corpo materiale il suo spirito non ci sta più a meno che si trasferisce in un altro corpo materiale perché ci vuole un lettore dello spirito ci vuole qualcosa che faccia interagire lo spirito con l'universo e questo qualcosa è l'anima ovvero il corpo che poi ci hanno rimbambito di cose ci hanno fatto credere che l'anima è una cosa che è astratta e che il corpo va disprezzato invece no non è così tutti questi concetti vanno riveduti bisogna riflettere e buttare via tutte le scemenze che ci hanno insegnato se uno è il coraggio di mettere in gioco tutto quello che ha imparato durante tutta la vita ci vuole un grandissimo coraggio non tutti ci riescono però chi ci riesce fa una grande conquista butta tutte le scemenze ringrazio ringrazio questo carissimo amico che come me anche musicista per aver fatto una domanda così bella e così importante grazie e grazie anche per il rispetto alla gentilezza con la quale hai proposto una tua argomentazione che ovviamente era l'opposto della mia quindi nonostante ci sia stato uno scambio diciamo di idee contrapposte tutto si è svolto con grande educazione con grande affetto e quindi posso soltanto che ringraziare veramente Salve Maurizio mi chiamo Mari la numerologia sacra i simboli e le metafore è vero che ci permettono di comunicare con l'universo? La simbologia Buongiorno Maurizio Allora la simbologia sacra i simboli e le metafore non ci permettono di comunicare proprio con niente quello che ci permette di comunicare con l'universo è quello che stiamo facendo di vedere stiamo parlando stiamo ragionando ok ci sono persone che hanno molte informazioni che volendo te le possono comunicare non è che ritorniamo alla magia il simboletto il rito magico il coso il numeretto ma sono tutte fesserie ma proprio non c'entra niente con la realtà capito? è un modo per far sta buoni i bambini cioè l'ho detto questi che ci dominano sanno che noi siamo molto infantili molto ignorantelli molto molto ingenui ci raccontano tutte le fesserie non ci crediamo ci crediamo ma non è perché siamo stupidi per carità non è che è che noi purtroppo non siamo mai stati educati a una riflessione razionale non ci hanno mai dato le informazioni giuste sulle quali riflettere il superismo è la grande lotta per dare alle persone la possibilità di avere delle informazioni concrete sulle quali riflettere per liberarsi dalle sciocchezze che questi ci hanno insegnato capito? le superstizioni le magie i riti i cosi e l'entità e gli spiritelli tutta sta roba non esiste ma non esiste proprio ho pure spiegato come fanno a creare nelle persone l'illusione del soprannaturale ci sono in ara capito? capito? perché se no magari qualcuno riusciva a non farsi influenzare tutte queste fesserie diciamo però se gli fanno i giochi di prestigio che proprio loro sono i giochi di prestigio perché loro in ara ce l'hanno da tanto tempo che ci fanno a fare i loro in ara servono per esempio ad avere una grande conoscenza senza stare lì ore giorni settimane mesi anni a studiare perché già c'è tutto imbottito né in ara né orali capito? pure se tu uno studia e vanno lì e sai tutto capito? e ci credo loro hanno queste possibilità non ce le danno però noi non ce le danno perché noi non dobbiamo capire troppo e sennò come fanno a dominarci e quindi allora ci inducono in tutta in tutta questa realtà illusoria e forviante che ci impedisce come ci ha impedito durante i 12.900 anni di capirci qualcosa e infatti per questo continuiamo ancora schiavi e sottomessi a questa dittatura aliena che noi non sappiamo che è aliena sappiamo che è una dittatura ma la gente non sa mica che è aliena e come i popoli del Sud America che ne sanno che quelli che sono venuti sono europei li hanno messi sotto dittatura li hanno massacrati li hanno rubato tutto li hanno rubato loro hanno massacrato le persone hanno fatto tutti i colori a loro che poi si ha una dittatura degli europei una dittatura degli eragini ne frega li hanno massacrati questi sudamericani poveracci quindi poi a limite che uno non sa da dove vengono le dittature uno non sa da dove arrivano le randellate che prende magari vabbè non lo sa però è ora di saperlo in modo che poi riusciamo tutti insieme con quelle spiegazioni che vi ho dato su come si fa a impedire questo adesso non mi fate spiegare tutto un'altra volta ma ci sono dei modi molto efficaci per fermare tutte queste prepotenze che stiamo subendo ok io vi ringrazio per aver fatto delle domande così carine delle domande così importanti delle domande così intelligenti sui grandi temi capito perché poi infatti per esempio il musicista che parlava prima si stava ponendo il grande dubbio filosofico che le persone si pongono da sempre come per esempio l'origine della realtà è materiale o è spirituale ovviamente il musicista che parlava mi sembra di aver capito che avesse scelto la teoria filosofica che la realtà è spirituale e va bene io però ho cercato di spiegare con grande serenità che comunque prima c'è un corpo e poi dopo nasce una persona uno spirito lo stesso vale per l'universo grazie a tutti abbiamo parlato praticamente per quasi un'oretta spero che questo possa essere utile per far riflettere un po' a tutti e vi ringrazio e vi amo grazie a tutti grazie a tutti